Allora, il primo è quello che io chiamo la PAI, sposto un attimo le cose qui, la PAI, la PAI qua sarebbe bene metterci una bella torta perché poi così la memorizzo meglio, perché PAI in inglese vuol dire torta. In realtà, adesso io te la noto qua così non te lo dimentichi più, questa PAI, questa PAI è un acronimo per una parola italiana che è problema, interesse, esigenza. Quindi, il secondo elemento che io voglio mettere all'interno del mio project brief è la PAI, cioè qual è? Adesso lo scriviamo, eh? Qual è il problema, l'interesse o l'esigenza specifica che io intendo intercettare? Questa è la PAI, ok? Qual è il problema, l'interesse o l'esigenza specifica che vado ad intercettare? Questa è la cosa che devo scrivere. All'inizio ne ho un'idea vaga e siamo qui nel campus insieme per aiutarci l'un l'altro a rifinirla. Io ti darò il mio feedback, i miei consigli, guarda questa non è una nicchia, non è un'esigenza specifica, oppure sì, questa lo è, cerchiamo di trovare la maniera migliore per esprimerla, ma questo è il cuore dal quale nasce tutto il resto. Non voglio farti ripartire da zero del perché ragioniamo in questa maniera in questo momento, perché voglio concentrarmi sul project brief, ma semmai nella parte di domande e risposte libere sei benvenuto, se vuoi mettere in discussione del perché partiamo da questo ragionamento, ma lo do per scontato che ormai, avendo visto delle lezioni di strategia o avendo partecipato a dei miei workshop o webinar, sai il perché cerchiamo di intercettare un'esigenza specifica. È l'unica maniera nella quale possiamo essere efficaci e competitivi, anche con i giganti, perché sappiamo che possiamo accontentarci di una fetta di mercato molto molto piccola, ma alla quale noi possiamo dare tanto valore, per cui possiamo ottenere in cambio reputazione e fiducia e la possibilità di vendere dei prodotti e dei servizi su misura, non avendo decine di migliaia o centinaia di migliaia di utenti, ma semplicemente decine o centinaia di appassionati fans alla cosa nella quale noi siamo degli esperti, ok? Degli esperti, dei guru, degli aiutanti, degli infermieri sociali, quello che vogliamo essere. Quindi, dopo il titolo, la PAI è chi vuoi intercettare, chi cerchi di intercettare? Pensalo in questi termini qua. Cioè è inutile che scrivi tutto il resto, che mi parli di software, che mi parli di tecnologie che intendi usare, se questo problema qui non l'ha inquadrato. Poi, quando uno va avanti all'interno del progetto, questa PAI la va a srotolare, come dico io, a smolecolare, a decostituire in una serie di frasi specifiche che le persone usano quando hanno quel problema, quell'esigenza, quell'interesse. Se voglio imparare a scrivere senza guardare la tastiera, cosa scrivo? Programma per imparare a scrivere sulla tastiera. Ma forse se mi sforzo, se vado a usare dei tool, se seguo delle tecniche, ti faccio vedere, se chiedo ai miei amici posso avere una serie di suggerimenti, individuare quali sono le frasi precise che rappresentano la mia PAI quando qualcuno sta cercando di risolvere quel suo problema, quella sua esigenza, quel suo interesse.